In costante crescita il numero dei furti d'auto elettronici, dalle chiavi clonate ai telecomandi intercettati a distanza, difficile difendersi da ladri sempre più abili a utilizzare le nuove tecnologie. La Polstrada denunciare subito il furto. Più che ladri di auto sembrano ormai degli 007, il risvolto della tecnologia. Immaginate di avvicinarvi alla vostra auto e di azionare il telecomando che apre le porte e avvia il motore. Certo, non potete immaginare che in un'altra auto a qualche metro qualcuno è appostato per intercettare il vostro segnale. Il gioco è fatto. Il ladro ha la chiave della vostra automobile in 15 secondi, quando siete già a casa, ve la ruba. I furti cosiddetti elettronici sono in crescita, quasi il 10% del totale nel mondo. Complice il crescente uso di tecnologia elettronica da parte delle case automobilistiche, sempre un passo indietro alle capacità dei ladri che, secondo le aziende specializzate contro i furti d'auto, in meno di due settimane dall'uscita di un nuovo modello riescono a violarne i sistemi. Il fatturato è da brivido, 20 miliardi di euro solo negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. I metodi elettronici per rubare i veicoli di alta gamma e le ibride sono degni di un film di 007. Dalla riprogrammazione della chiave, attraverso l'accesso diretto al dispositivo di bordo, alla sostituzione delle componenti elettroniche, fino alla clonazione della chiave del veicolo attraverso l'impulso del transponder, per arrivare ai cosiddetti connected attack, con cui i cybercriminali riescono a compiere il furto perfino a distanza, sfruttando le debolezze del sistema telematico di sicurezza. Difendersi è difficile e costoso. Nel 2015 la regione con il più alto numero di furti, fra auto, fuoristrada e furgoni, è stata la Campania, con 23.682 veicoli rubati. Seguono Lazio, Puglia, Lombardia e Sicilia. Il Trentino Alto Adige con 223 furti e la Val d'Aosta con 40, le regioni meno colpite. Le auto di lusso possono avere due destinazioni finali, o vengono reemmesse in un mercato nazionale e internazionale e rivendute, riciclate mediante l'uso di falsa documentazione, oppure vengono sezionate e le parti di ricambio vendute perché hanno comunque un ingente valore. Ed ecco le diavolerie elettroniche più usate, centraline modificate, skimmer per decodificare le chiavi e disturbatori portatili di frequenze per inibire gli antifurti. La prima cosa immediatamente segnalare alle forze dell'ordine che provvedono a inserirlo in una banca data internazionale. Il consiglio è evitare di utilizzare il telecomando ma piuttosto usare la chiave meccanicamente. Grazie a tutti.